E' una storia un po' triste perché erano bambini di tre anni che soltanto dieci mesi fa è arrivato al nostro ospedale con questa disfunzione miocardica, ha iniziato tutto il percorso del terapeutico e purtroppo poi ha avuto un'infezione del cuore artificiale, abbiamo provato a rimuoverlo poi è stata molto male, tutta una serie di complicanze che hanno fatto sì che siamo arrivati a un punto e che non avevamo alternative. L'unico modo per non lasciarla morire era tentare di impiantare un cuore artificiale di nuovissima generazione grande solo un centimetro e mezzo, così nuovo da non aver neppure completato la sperimentazione dell'autorità di garanzia americana che ha però dato al bambino Gesù di Roma un'autorizzazione straordinaria per la seconda volta nella storia di questo dispositivo. C'è un precedente vero? Sì, noi abbiamo quasi cinque anni fa impiantato il primo prototipo di questo cuore artificiale. Il primo caso è andato molto bene, poi il cuore ha funzionato per oltre due settimane poi dopo di che è arrivato un cuore normale e l'abbiamo trapiantato e il bambino è a casa e sta molto bene. È proprio questo lo scopo del dispositivo. I cuori artificiali utilizzati finora erano ingombranti con grandi cannule che fuori uscivano dal torace e con delle console da oltre 40 chili. Questo impediva ai bambini di uscire dall'ospedale in attesa che arrivasse il cuore da trapiantare. La bimba ora sta bene, gioca e potrebbe anche tornare a casa in attesa del trapianto. Era necessaria quindi questa forzatura dei protocolli di sperimentazioni e autorizzazioni? Beh, sono i bambini che forzano le decisioni, non siamo noi. Sono i bambini e con le loro condizioni di salute che ci invitano a forzare il sistema.